Questo video è grazie allo spunto dell'amica Mara Sorrentino che mi segue su YouTube e che ringrazio. E come indurre un uomo a dichiararsi? Perché spesso molte donne hanno questo problema, che frequentano degli uomini, capiscono anche che questi uomini sono attratti da loro, ma loro le cercano, diciamo, senza dichiararsi, senza dire, guarda, siamo fidanzati, soprattutto senza dichiararlo al mondo intero, e cercano di mantenere il rapporto come se fosse un rapporto di amicizia, cercando magari di avere anche sesso, diciamo, soprattutto quello. E però non dichiarano all'altra persona e anche agli amici, alle situazioni, di avere una relazione. Cercano di non fare questo. Allora, cosa significa questo? Significa che non sono sufficientemente coinvolti e hanno la certezza invece che l'altra persona in qualche modo è coinvolta, per cui tirano i reni in barca. Questa è una condizione abbastanza tipica. Allora, in questi casi esiste solo una soluzione. Se tu hai verificato che, ad esempio, se ti allontani, se lui ti insegue, eccetera, devi ricalcare quello che ti dice lui fondamentalmente, cioè a dirgli, no, guarda, rimaniamo solo amici perché è meglio così, è meglio che non facciamo sapere in giro che siamo fidanzati. Questo glielo dice a livello logico, in modo tale che tanto è un qualcosa che ti avrebbe detto lui. E poi gli piazzi subito un bel antagonista, un antagonista che deve essere un grande Cesare in grado di portarti via lui attraverso la trasgressione. E questo grande Cesare, questo antagonista, è meglio che sia un antagonista trasgressivo, in grado addirittura, lui deve credere, di renderti più, tra virgolette, puttana di quanto potrebbe renderti lui. Uno in grado, capace di rivoltarti come un calzino. Ora, quest'antagonista può essere reale, nel senso che te ne trovi uno, diciamo così, o può essere presunto, nel senso che glielo fa intendere. Se vuoi farlo avere, cioè vuoi creare un antagonista presunto perché non è uno sotto mano, potresti dirgli ogni tanto tranquillamente, no, vediamoci soltanto magari un'oretta in settimana nel pomeriggio, perché io comunque adesso nel weekend ho conosciuto un tizio che mi sta, mi ha invitato a cena, una persona molto interessante. Poi sai, noi siamo amici, a me fa piacere raccontarti queste cose. Tanto tu mi capisci, poi io so che non sei geloso. Inizia a buttare lì, gradualmente, facendoli in modi diversi, ma questo lo spingerà a fare qualche cosa, perché da quel momento lì in poi sa che lui non è più, come dire, sul piedistallo, non è più al centro della tua attenzione, e dovrà fare qualcosa, altrimenti è forte il rischio che ti perda proprio con uno che è pure, diciamo, molto trasgressivo e che potrebbe allontanarti definitivamente. Mettendo in atto questa strategia è molto, molto probabile che lui arrivi a dire, a marcare il territorio. Fondamentalmente il maschio, quando sente che la femmina gli viene sottratta, cerca di marcare il territorio. Il territorio lo marca, ad esempio, andando a dire agli amici che siete fidanzati, che siete una coppia, e questo è l'unico modo. Altrimenti rischi che la situazione si perpetui per tanto tempo senza ottenere assolutamente nulla. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscriviti al canale, condividilo con gli amici e seguimi sul blog seduzionevip.com. Ciao!